laudetur jesus christus cari amici telerati ascoltatori e per luigi bianchi cagliesi che vi parla oggi 29 gennaio 2022 per il nostro commento del giorno quante trasmissioni quante volte abbiamo parlato 5g di questa tecnologia che creerà sicuramente grossi problemi e che naturalmente è stata più volte analizzata con grande attenzione e preoccupazione per tutte le implicazioni che può avere sia sul corpo umano sia per altri problemi che si potrebbero determinare dal loro utilizzo dall'utilizzo ebbene cari amici viene fuori oggi una notizia molto importante che riguarda proprio uno dei problemi più grossi che potrebbero esplodere da un momento all'altro soprattutto negli stati uniti in relazione a questo tipo di tecnologia e cioè praticamente l'aviazione civile negli stati uniti e a rotazione poi quella mondiale per colpa delle tecnologie 5g che sono utilizzate dai telefonini potrebbe rischiare una vera e propria catastrofe e non stiamo scherzando perché lanciare l'allarme sono proprio i principati amministratori delegati delle compagnie aeree degli stati uniti dopo che le compagnie telefoniche americane sono state pronte e si sono dichiarate diciamo pronte ad accendere nuovi ripetitori per la rete dati 5g e quindi queste frequenze che vengono utilizzate dal 5g sono molto vicine a quelle che vengono utilizzate dai radioaltimetri degli aerei e quindi le compagnie aeree hanno detto che il nuovo servizio potrebbe potenzialmente rendere inutilizzabili un grande numero molto significativo di aerei che sono quelli soprattutto con le fusoliere molto larghi capaci di avere sapete tantissime file di posti interni che utilizzano proprio una serie di tecnologie che potrebbero interferire pesantemente col 5g compromettendo la strumentazione di bordo questo significa che in un giorno più di 1500 voli o 100mila passeggeri sarebbero soggetti a cancellazione deviazione o ritardi e questo appunto in una lettera che è stata anche firmata da le compagnie più grandi americane come airlines atlas airways fedexpress ups insomma si lancia questo monito si lancia questo allarme sostenendo appunto che si deve intervenire molto velocemente perché le compagnie aeree chiedono che 5g sia appunto messo in sicurezza e che le piste soprattutto aeroportuali in alcuni aeroporti chiave vengano smantellate perché il rischio appunto che si troverebbero ad affrontare gli aerei che devono decollare o devono arrivare è veramente altissimo e dicono anche che è veramente necessario un intervento immediato per evitare una significativa interruzione operativa ai passeggeri aerei agli spedizionieri a tutte le catene di approvvigionamento la consegna e le forniture mediche necessarie tramite aerei ci sono molti sistemi di sicurezza moderni sugli aerei che saranno considerati inutilizzabili se queste tecnologie 5g non verranno smantellate velocemente perché si potrebbero causare dei problemi molto più gravi di quelli che uno può immaginare ci sono i produttori di aeroplani che hanno informato che ci sono enormi fasce della flotta operativa che potrebbero aver bisogno di essere messi a terra a tempo indeterminato e c'è una più note compagnia aeree americane la united che è una dei principali che ha avvertito che l'attuale piano di implementazione della rete wireless 5g negli stati uniti avrebbe un impatto negativo su circa 1,25 milioni di passeggeri e almeno 15 mila voli all'anno quindi hanno fatto una hanno preso diciamo la penna e hanno scritto proprio all'amministrazione biden chiedendo di agire immediatamente e ci sono appunto poi state tante altre compagnie e tante altre agenzie che sono anch'esse intervenute proprio per sottolineare l'urgenza e la necessità di di intervenire velocemente c'è la federal aviation administration degli stati uniti che ha confermato che la potenziale interferenza potrebbe influenzare intanto gli strumenti sensibili degli aerei come gli altimetri e poi tutto un impatto per quanto riguarda le operazioni a bassa visibilità che si diciamo che utilizzano queste nuove tecnologie che sono presenti sul sul punto gli aerei più diciamo di ultime generazioni e questo vedete non è solo una questione globale europea è una questione specifica che riguarda proprio l'uso di questa tecnologia 5g 5g e la sua implementazione degli stati uniti in termini proprio di bande di frequenza di potenza che va rivista assolutamente perché non è più possibile assolutamente continuare a impiantare tra ricci punti 5g senza considerare tutta una serie di problemi che cominciano lentamente a emergere oggi riguardano gli aerei domani potrebbero riguardare benissimo altre cose e questa conferma arriva anche da una compagnia degli emirati arabi che ha sospeso i voli pensate verso 9 città statunitensi come boston chicago dallas e houston miami eccetera eccetera proprio perché esiste un rischio reale che potrebbe mettere al repentaglio anche la sicurezza dei stessi passeggeri e allora cari amici buon viaggio vedete come cari amici il diavolo fa le pentole ma non i coperchi ricordate mesi e mesi no di tutto queste di tutto questo terrorismo che si è fatto sul 5g sulle implicazioni che questo potrebbe avere le connessioni addirittura con l'organismo umano adesso si comincia a smantellare no questi impianti soprattutto nelle aree aeroportuali cominciano a essere smontati si devono smantellare poi si vedrà vedremo come finirà questa ennesima operazione diabolica e già comincia a fracassarsi come tutto il resto di questo grande abominevole progetto mondialista basta un piccolo granellino vedete di sabbia per far frantumare questo gigante dai piedi d'argilla l'opera di smantellamento che è anche qualcosa che ha degli aspetti vedete traggi comici cari amici e qualche cosa che fa capire l'estrema vulnerabilità di questi sistemi l'estrema fragilità e la modalità con cui la provvidenza di dio ricorrerà quando riterrà opportuno a dei piccoli passaggi assolutamente apparentemente insignificanti con cui si frantumerà questo gigante che sembrava onnipotente che sembrava invincibile e che vedremo invece pezzo dopo pezzo frantumarsi davanti ai nostri occhi e in questa consapevolezza anche questa certezza cari amici degli ascoltatori che auguro a tutti voi una buona giornata laudetur jesus christus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.